Allora ciao ragazzi questo è il video diario di questa settimana Ciao buongiorno Ciao buongiorno Qui c'è il buon Carrara Per vedere come stai bene con la bocca Va ci sei bello Lucchino by landlord Allora praticamente Sono appena svegliato e dovevo fare Sto video diario perchè mi ero scordato E E ora siamo in bagno E Darmi una sciacquata per andare a fare il soundcheck Allora la settimana è andata bene Siamo abbastanza presi bene Insomma Settimana tosta perchè è una settimana di sfide Pezzi che non ci aspettavamo di fare Li stiamo facendo Però Alla fine Se non ci fossero le sfide Che programma sarebbe E Divertente dai divertente E' una sfida Bael L'affronteremo In modo Bael Quindi Siamo tranquilli Che altro si può dire Riguardo alla settimana Che Siamo andati a vedere anche il games Quindi Siamo Siamo arrivati In questo cinema Si sto finendo di fare Il video diario No tranquillo Arrivo Devo andare a fare il soundcheck Comunque E' stato bello Ringrazio tutti quelli che erano lì A fare il casino E insomma Che ci hanno chiesto una foto O quant'altro Anche se Per me è stato molto strano Però Bella storia Figata Ehm Non vedo l'ora di Arrivare sul palco giovedì E di cantare per insomma Tutti voi Tutti quelli che mi hanno votato E continuano E spero continuino a farlo Anche dopo giovedì E Che altro Qui ce la spassiamo Bael Squad Sempre Sempre Ignoranti Al punto giusto Ehm Ragazzi Quanto è difficile fare il video Buono Ci ha messo il sorriso Poi mi sono abbioccato sul divano Perché il divano è molto comodo Rispetto al letto E' molto comodo Ehm Niente ragazzi Ci vediamo giovedì Ehm Vi aspettiamo Al Al live Ehm Niente Quindi Niente Scusate Mi blocco Non so che dire Comunque A spaccare Ci vediamo Giovedì Ciao ragazzi Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al nostro canale Se volete altri contenuti esclusivi Andate a fare un giro sul nostro sito internet Se invece volete seguirci in diretta Scoprite l'offerta di Sky Online Iscrivetevi al nostro canale Grazie.